L'8 dicembre padre Paolo da Valenzano, fondava a Barletta l'azione cattolica, la prima sede pugliese. Notevole fu l'azione educatrice e apostolica di Fra Paolo, che anche durante il fascismo, nonostante avesse subito un'aggressione armata al convento, continuò ad infondere nei giovani barlettani ideali di libertà lontani dalla cultura fascista. Natto a Valenzano il 17 novembre 1882, entrato nei cappuccini il 19 maggio 1899, prese i voti solenni il 1903 e divenne sacerdote nel 1905. Da questa momenta Barletta fu il campo del suo apostolato. Presse il terzo ordine, le associazioni giovanili cattoliche fondò nelle parrocchie il ricreatorio San Francesco Bassisi, ed altre opere con piena fiducia delle autorità ecclesiastiche. Morì il 10 marzo del 1929.